Aguilani, chiude il triangolo col compagno, si fa avanti la Fiorentina, cerca la rete, il tiro trova il pallo ma la palla torna in campo, ha segnato la Fiorentina. Do Cavalero, grandissima occasione per lui, si fa sotto, gol, agguanta nel pareggio. E' ristabilita quindi la parità tra le due squadre, stiamo a vedere adesso chi riuscirà a rompere di nuovo l'equilibrio. Vargas, Vargas, Fiorentina segno. Manca poco la fine, può succedere ancora di tutto, avanza verso l'aria, Sansone. Grampa, tempo e viso, hanno pareggiato, hanno pareggiato. Questo gol è una dimostrazione che sottolineare gli avversari è sempre deleterio. Ecco il gol che ci viene mostrato da un altro inquadramento. Grazie. Grazie.